no saluto di quanti oggi la spada porco da benvenuti in questo nuovo altro con una nuova serie sudum sudum 3 quando un treno quello normale ma era bfg edition quelle che uscite di recente beh avevo detto che non avrei fatto nessun altro walltrog se non avrei finito prima le altre due che sto facendo sul mio canale però non ho resistito a questo giochino devo assolutamente farvelo vedere quanto già da tempo che sto guardando sul mio sito dove prendo i giochini dove prendo tutti i giochi che voglio che questo giochino continua ad essere sempre in primo piano ma dico ma si dai scarichiamolo guardiamolo cosa è di nuovo beh di nuovo ha soltanto il fatto che ha le due espansioni non mi ricordo adesso il nome però andremo a giocare in una delle due che mi sembra la prima cioè mi sembra se non mi ricordo male è la dark resolution e l'altra buona mi ricordo la dark resolution resolution scusatemi per un mio parlato dovrebbe essere la continuazione qualcosa del genere del doom 3 che di cui non so molto non so la storia ho giocato il doom 1 e il doom 2 però non ci ho mai giocato il doom 3 vabbè tralasciamo questa roba qua e andiamo a fare subito una delle nuove espansioni facciamo nuova partita eccolo qua resolution of evil e last lost mission beh cominciamo a fare la resolution of evil perchè ho deciso di far così bene ragazzi adesso faccio partire il mio cronometro facciamo non veterano facciamo marine vai con cronometro e cominciamo con la partita beh ovviamente il gioco comincia sempre con qualcosa del genere a causa di un problema e canna no la stazione si si ok ok una sola persona ok sono orbitando e registrato la presenza di un debole segnale non edificato proveniente dal complesso abbandonato di il sito 1 agosto 8 non ha conosciuto la ripresa dei programmi di ricerca su Marte dottoressa Elizabeth giudare la prima squadra di accertamento boh il gioco comincia così noi siamo arrivati su Marte perchè abbiamo trovato una specie di segnale qualcosa del genere dottoressa McNeil sono vicini comunque guardiamo adesso i video squadra rossa registriamo la vostra posizione a meno di 100 metri da segnale ma non esistono dati sulla presenza dell'antica civiltà nella zona credo stiano lavorando su qualcosa ma non vogliono renderci partecipi certe cose non cambiano mai che coraggio di andare in un posto così mi ricamera oltre questo muro qui mi serve una mano cominci a voto state pronti siamo dentro bravi ragazzi avete fatto esplodere una bella porta che camera misteriosa abbiamo problemi con la vostra trasmissione voglio che quel collegamento sia ripristinato ora maledizione non vedo niente oddio cos'è cos'è quella roba questo ovviamente è il nostro eroe principale è un gran fico lo so quello lì è un cuore qualcosa del genere non so cosa servirebbe portale siamo stati liberati ma chi ha sto figlio di buona madre che esce dalla bocca di un drago oddio non dirmi che questi qua li dovevo affrontare ah si ragazzi no aspettate mi lascio prima guardare questa scena buo il nostro personaggio è sparito un salvataggio cos'è cos'è ah si ragazzi vi avviso che a me questi giochi qua fanno ecco qua qualche miseria qualche miseria mi fanno paura scusate il mio orologio sta suonando ok eh dios mio mi fanno paura da morire ah si aspettate che devo abbassare la sensibilità no comandi devo abbassare un po' la sensibilità ok così va meglio se no non ci riesco a giocare oddio no 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 muo tana evas già comincia a farmi paura questo gioco oddio 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 eva fanculo evas scusatemi ragazzi dobbiamo di nuovo rifare da capo questa missione prometto che non cadrò più giù la stessa scena del sangue schifo si è recuperato da una pellicola va bla 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 si qui dovrebbe uscire quella tuttana volante muori stronzo muori bene qui oh sei vi oddio 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 no 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 ti prego no mi fa paura questo gioco mi fa paura questo gioco cazzo va ad accendere la luce uh inserisci che ricamito in corso ah poche luce c'è bene qui marina rispondi marina la di lei la marina uh devi raggiungere vince con il manufatto si si ok 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 oddio no no cos'è cos'è ti prego ti prego ti prego ti prego non farmi del male ti prego ti sponiamo farmi del male muori bastardo no che è successo muori tutanas cosa dobbiamo fare qui andiamo qui della via non c'è forse di là ok oddio no 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 e muori cazzo dios mio cazzo quanto mi fa paura ragazzo mi dispiace ma è un gioco veramente pauroso oh armi ah no 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 Oddio 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 Questo gioco mi fa troppo paura Noooo E che diamine sono già rimasto così poca vita Nooo Cazzo quando mi fa paura questo gioco Ok, calmiamoci Spider, calmati Tu puoi Puoi affrontare questo gioco Lo puoi affrontare Ok, vediamo Ah, ma questi qua sono quelli di Domuno Che lanciano delle sfere di fuoco Ficcata Ficcata Uh, ecco cosa mi serve Una bella pistolozza Ok, salvataggio Uh Beh ragazzi Per questa volta abbiamo esaurito il tempo Dei dieci minuti Sì, lo so, è così in fretta Uh, salvo Ficcata Non sapevo che con il tasto destro si saltava Beh, comunque ragazzi Per questa puntata qui abbiamo finito Quindi possiamo fare salvataggio rapido Ok, salvataggio tutto fatto E vi posso salutare Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al mio canale Se volete seguire altri Wild Trog Cioè se ne volete perdere neanche una Nella prossima puntata Scenderemo laggiù Non so cosa c'è Ma con questo gioco qua Mi fa paura Comunque Ciao ciao a tutti E ci vediamo nella prossima puntata Ciao 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 ciao